aurora ramazzotti racconta la sua esperienza da madre a mamma dilettante a diletta leotta che la ospita nel suo podcast la 27enne parla del figlio cesare nato il 31 marzo scorso che ora pesa già 15 chilogrammi non solo rispondendo alla domanda scomoda parla anche dei rapporti intimi durante la gravidanza col compagno goffredo cerza con cui sta insieme da ben sette anni e diseducativo dire di no sottolinea il quesito è semplice sesso in gravidanza sì o no auri non si sottrae e diseducativo dire di no lo sai perché fa benissimo la leotta replica però ci sono delle coppie nelle quali il compagno va un po in ansia si preoccupa ah sì l'uomo può essere controbatte la ramazzotti certo tutto può essere anche la donna non ha tanta voglia perché comunque è particolare di contro ci sono donne che hanno molta libido tu in che squadra sei le chiede diletta aurora rivela io sono esattamente nel mezzo nel senso che ero abbastanza tranquilla cioè si continuava era un periodo normale ecco invece alla fine il sesso ndr serve per indurre il parto se vuoi fare un parto naturale te lo consigliano proprio sorride la conduttrice 32 n le domanda il motivo la figlia di michelle unzicher ed eros ramazzotti confida mentre all'inizio così anche un po sexy particolare diverso alla fine è una tragedia e caos puro io stimo molto gli uomini che riescono a farlo stimo molto goffredo per essermi stato al fianco fino alla fine aurora del compagno svela pure e un papà bravissimo stanotte ha dormito sul divano perché abbiamo litigato io sto lì che cerco di riaddormentare cesare lui russa poi si sveglia e mi dice come fare le cose e allora poi ci ridiamo su il rapporto è cambiato con il bimbo però devo dire che riusciamo a mantenere un equilibrio alcuni giorni riusciamo e altri meno e sul suo essere mamma l'influencer confessa nessuno nasce mamma sa come fare la mamma dobbiamo seguire l'istinto e se parli con le persone trovi spunti in gravidanza ho letto un po di cose ma la mia informazione principale è arrivata da tiktok perché vedi tutto quello che è inerente a quello che stai vivendo tramite contenuti di altre mamme che stavano vivendo la stessa esperienza grazie a tutti